Alice Dellen, ma non se ne parla di stare ferme, vero? Ma quando mai? Ma guardate, sembrate veramente le gemelle Kessler, proprio uguali, cambia proprio poco, siete stupende, che belle che siete, sì, così si sta, ferme, ferme, sì, fate vedere quanto siete belle. Abbiamo passato il Natale in gabbia. Basta, basta stare qui dentro. Prima della fine di questo mese dovete andare in una bella famiglia anche voi, perché siete troppo carine, eh? Dai, speriamo che andiamo molto presto in una famiglia, dai, ce la faremo. Ciao, ciao, bellissime, ciao, ciao.